Via! Ciao! Barbara Castellani, Vood 1 di qualifica del Pescara Throwdown 2018, categoria Scaled, giudice, Giacomo Montagnana, attrezzatura, molla, bilanciera da 15 kg, 5 kg di piastra, 5 kg, molla, 5 kg, 5 kg, molla, bilanciera sempre quella, molla, no, no, ce l'ha già, ce l'ha già nell'orecchio, mi pare di sì, fai partire pure il, pronti, accendiamo, questo lo possiamo accendere noi ora, ok, partiamo da zero, stai sulle mille, ricordati, mille calorie, 3, 2, 1, via! Via, vai! Mia, metto via! Comentio via, respira, respirato! Grazie a tutti. Continua a respirare. 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 Vai, vai. Su, 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 su. Vai, vai, vai. Vai, vai.